Primo giorno del mese di agosto, siete su Notizia Non Click, qui con me Loredana per la lettura di alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato. Avviso di agosto contemporanei su parte della Nord Italia, persiste però il gran caldo. Per l'ambiente l'oceano è sempre più caldo, le Galapagos e le creature che ci vivono sono in pericolo. Domenica 4 agosto, siamo con Eventi Cultura e Spettacolo, torna l'ingresso gratuito nei musei civici e siti archeologici di Roma. Per la salute e Alzheimer, l'esame del sangue diagnostica la malattia con una precisione del 90%. Per l'estero, Meloni in Cina, rafforzare la cooperazione e ONU, i detenuti palestinesi torturati. Facciamo tantissimi auguri di buon compleanno a Giancarlo Giannini e oggi nasceva nel 1936 lo stilista Yssam Doran. Bimbo, mi chiedi cos'è l'amore? Cresci e lo saprai. Bimbo, mi chiedi cos'è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai. Questo e molto altro potete trovare nel nostro portale di informazione. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla nostra prossima mini rassegna Loredana.